. E immobile, Daniele Bossari e quel problemino molto intimo al GF VIP foto, video. Per Daniele Bossari problema intimo nella casa del GF VIP. . Già qualche settimana fa i concorrenti uomini del GF VIP avevano palesato la difficoltà di restare in casa senza potersi sfogare, Luca Onestini era stato pizzicato a farsi quelle che parevano essere delle carezze intime, Ignazio Mosere e Gianluca Impastato avevano confessato di essere arrivati al limite. . . Anche Daniele Bossari ha espresso un problema intimo che ha suscitato l'ilarità dei suoi colleghi di sventura. . Durante l'ultima puntata di Mai dire GF VIP, la Jalapa Spend ha mandato in onda un filmato in cui il conduttore rivella che là sotto, dove non batte il sole da più di un mese, è tutto immobile. . . . . . . . . .